Mi sembra che, avendo visto anche le dichiarazioni che hanno fatto durante la presentazione, non sia un'iniziativa per rivendicare i diritti per qualcuno, ma sia un'iniziativa per sottolineare e voler imporre un'ideologia. Così il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sulla manifestazione del Gay Pride prevista per l'8 giugno. Il governatore ha sottolineato il fatto che non si tratti di una questione di rispetto dei diritti delle persone in quanto tali, ma di concetto di famiglia, intesa come famiglia naturale, dove si vuole instaurare una rete che garantisca i diritti di tutti, cosa che non sarebbe stata valorizzata dalla rete Redi, motivo per cui la regione ha scelto di non aderirvi più. Non a caso non ho toccato la regione Friuli Venezia Giulia perché è uscita dalla rete Redi, che era una rete che di fatto promuoveva, per esempio, spettacoli proposti a minori dove venivano raffigurati i ragazzini che una mattina si svegliavano e dicevano se essere uomini, decidevano se essere uomo, se essere donna, se essere intergender, transgender, in transizione da uomo e donna o da donna e uomo. Quello non mi sembra una difesa di diritti, mi sembra semplicemente un'imposizione di un'ideologia, cosa che non troverà a loro fianco Regione Friuli Venezia Giulia, che invece vuole valorizzare e portare avanti la rete famiglia per promuovere la famiglia naturale e garantire i diritti di tutti. Una persona non si distingue dall'orientamento sessuale, perché una persona in quanto tale e non mi interessa dell'orientamento sessuale, ho l'impressione che invece da quella parte distinguono le persone per orientamento sessuale e decidono chi è buono e chi è cattivo rispetto a questo e non rispetto a quello che viene proposto alle nostre comunità.